Buongiorno, sono il professor Colombo, sono il dirigente del liceo scientifico e faccio parte insieme ad altri colleghi del gruppo di coordinamento dei dirigenti della provincia di Biella. Con l'ausilio del dottor Giannone e del dottor Zanotti stiamo coordinando le varie attività che vanno dal bullismo al disagio in generale e soprattutto quello dell'aggiornamento dei dirigenti scolastici. A tal proposito, per meglio interpretare il decreto Brunetta, sono stati organizzati due corsi nel sito di Cavaglià presso l'alberghiero con l'aiuto del professor Molinari che è il dirigente. Il primo diretto dal professor Roberto Romito riguardava la contrattazione di istituto e poi i procedimenti e le sanzioni disciplinari e si è tenuto appunto, ripeto, nella sede di Cavaglià. Questo era nel mese di febbraio, nel mese di marzo invece ha avuto luogo il secondo incontro ottenuto dal professor universitario Sandro Mainardi e il tema era quello della valutazione del merito dei dipendenti. Sicuramente sono previsti altri due incontri, sempre nel sito o di Cavaglià o di Trivero, uno che riguarda in modo specifico i dirigenti e l'ultimo che riguarderà i segretari, quindi il personale ATA in specifico.